ciao a tutti ragazzi oggi voglio condividere con voi cosa ho acquistato da amazon abbiamo qui un rullo delle pietre di giada molto benefiche e qui abbiamo una piccola pietra abbastanza sottile per fare massaggi su varie parti del corpo in più ho anche acquistato una spazzola lisciante di lino male poi lasciare i capelli morbidissimi ahhh siamo belli pescissi olio puro alle mandorle ok 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 cominciamo subito il collo verso l'alto dopodiché sempre verso l'alto e poi verso la parte laterale però sempre verso l'alto io ho le guanciotte quindi un grande massaggio proprio bello queste sono pietre di giada infatti per questo è un pietro di questo colore ma c'è anche la parte della bocca in realtà quello piccolino è più verso gli occhi quindi vi utilizzo questo è proprio rilassante che dire è proprio un bellissimo prodotto soddisfatto ciao